Una ricetta al giorno toglie i rifiuti da Toro, una simpatica iniziativa della provincia. Di che cosa si tratta, Assessore, e perché? Un corso che abbiamo voluto fare qua in provincia di Savona per stimolare anche l'invenzione di nuove ricette, ma per incominciare ad osservare il rifiuto come un qualcosa che debba essere invece riutilizzato e che non debba essere semplicemente buttato in un buco sottoterra o da qualche impianto. Abbiamo quindi studiato questo concorso di eco-ricette, un concorso dove chi con fantasia si deve inventare delle ricette utilizzando gli scarti di cucina, cioè la roba che invece che potremmo buttare via, invece che buttarla via la riutilizziamo e ce la usiamo per nutrirci. Qua in Liguria noi abbiamo una tradizione su questo, basta ricordarci il capo magro, ma anche mi ricordavo un amico il polpettone che era al piatto del lunedì. Quindi noi in questo senso vogliamo far sì che gli avanzi di cucina non vengano gettati ma di utilizzati. Voglio anche ricordare in questo senso che abbiamo comunque già una quarantina di domande. Questo concorso comunque verrà valutato da cuochi esperti, tre ricette verranno scelte e gli verrà fatto un video, quindi avranno un momento di gloria nell'essere presentati nel nostro sito, pubblicizzati alle iniziative della provincia e dell'ambiente, di queste tre ricette che saranno inventate dai partecipanti al concorso e potranno dare un loro contributo sia culturale ma anche effettivo alle famiglie che magari in momenti anche proprio non facili trovano il modo migliore per utilizzare ciò che acquistano. Grazie a tutti.